Voglio fare questo video perché non credo di essermi mai spaventato così tanto in tutta la mia vita e credo che soltanto chi ha un animale domestico a cui tiene tanto può capire questa cosa nel senso sapete che io ho preso una gattina circa 5 mesi fa praticamente da allora è cresciuta e vissuta praticamente insieme a me e alla mia famiglia ma principalmente insieme a me perché comunque io stanno andando a pc per motivi di youtube, per motivi personali stanno comunque tanto tempo in casa se io e lei abbiamo regato veramente tanto quindi io sono 5 mesi che l'ho vista, che la vedo crescere in mezzo alle mie gambe avete presente i pantaloni quelli della Sardegna con il cavallo largo io mi metto con le gambe incrociate lei penso che abbia passato centinaia e centinaia di ore di sopra a dormire è diventata praticamente la mia ombra che io vado a dormire, a mangiare lei che io vado in bagno e mi seguo praticamente ovunque l'altra sera però è successa una cosa appunto che mi ha fatto andare nel pallone veramente penso che se io fossi stato male sarei stato meno preoccupato di come sono stato l'altra sera praticamente best vi spiego brevemente quello che è successo ragazzi se è un vlog un po' confuso è perché sono confuso anch'io, questa è una premessa perché ho detto a tutti i miei amici che la cosa era andata bene, che Ari stava sempre meglio che è vero però ci sono cose che devo dire e secondo me questo è il modo migliore sia per informarvi perché comunque voglio rendere partecipi di quello che succede sia nel bene che nel male della mia vita sia perché serve a me probabilmente parlare di queste cose perché sono successe un paio di cose che veramente adesso vi spiego mercoledì sera stavo registrando con l'ore la serie di minecraft quella del parkour che appunto uscirà poi sul suo canale credo domenica stiamo registrando e per fortuna verso la fine l'ore mi fa ma guarda ti sono montato l'evento del pc perché sento un casino sottofondo, tolgo le cuffie, sento il pc normale e sento che c'era l'arattrice che andava guarda no l'ore è l'arattrice, dammi un secondo, chiudo l'aeroporto di mezzo così non sentiamo più casino vado per chiudere l'aeroporto di mezzo, chiudo la prima porta che appunto è il bagnetto piccolo dove appunto è messa l'arattrice, mi giro e vedo Ari era un po' strana, un po' sonnecchiante ma non ce l'ho molto peso fino a quando non cerco di farla un attimo spostare perché era sulla porta la cerco di far spostare un attimo e vedo che lei cammina ma barcolla barcolla e lì cedono le gambe dietro e io ho detto ma cosa, 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 cosa c'è cioè nel senso inizialmente non capivo Ari, sai può essere appena svegliata, appena un po' così magari per il caldo può essere comunque faccia questo effetto allora provo a farli fare altri due passi e vedo che tipo va contro il muro non riesce ad andare avanti allora torno un attimo al pc e dico, guarda, ho un problema colgato da un secondo allora nei successivi 15 minuti cerco di capire cosa ha perché obiettivamente non stava in piedi, non riusciva a camminare sbandava, stendava contro il muro ha rovecciato più volte la cittola del cibo ha provato a saltare sul divano e non riusciva al divano è alto praticamente nulla non riusciva a saltare sul divano, si aggrappava per poi cadere, cadeva e non stava in piedi veramente era una roba bruttissima quella che stavo vedendo in quel momento e io ero, non sapevo cosa fare in quel momento allora, prima cosa cosa faccio, chiamo Sabri e Sabri mi fa, guarda, se vuoi c'è un veterinario di fianco a me aperto 24 ore su 24, solo che ora che arrivavo là sarebbe passato troppo tempo ho cercato uno all'intorno della mia zona e per fortuna c'era uno appunto vicino di notte un aperto di notte vicino alla mia zona appunto vado in quel veterinario, ovviamente avviso l'arico guarda, l'arico scusami ma purtroppo devo scappare c'è un problema molto molto più grande vado allo veterinario e gli fa un po' di controlli e vedo un po' com'è il gatto la cosa che, ci te lo giuro ragazzi questa è una cosa che probabilmente mi ricorderò per sempre eravamo dal veterinario appunto e stavamo per liberarla per appunto vedere un po' cosa aveva la scena è questa c'eramo io, mio padre del veterinario lei mi guarda, inizia a guardarmi mi angola e mette fuori la zampetta dal trasportino non so come si chiamina quel robo lì non guardava nessun altro, guardava solo me e ve lo giuro ragazzi questa è una cosa che forse mi ricorderò per sempre cioè il suo il suo muso così era terrorizzato ragazzi ve lo giuro, non ho visto così tanto sovventata e anche io ero veramente tanto sovventato e quindi niente, cerchiamo io ovviamente non posso fare non ho le convenenze né per aiutarla né non ho niente io ho solo una piccola spolverata di chimica quindi potevo immaginare lontanamente cosa era successo infatti pensavo inizialmente che boh avesse buvuto del vino di mio padre sul tavolo avesse preso qualcosa perché sembrava come se fosse ubriaca o drogata non lo so ragazzi veramente è una roba che non auguro di dare a nessuno proprio gatto il fatto sta che riesce a visitarla parliamo parliamo un po' gli racconto tutto quanto gli racconto il profilo per segno e gli racconto l'alimentazione come vive tutto tutto quanto e adesso scusatemi ma ometterò delle parti perché voglio tenerle private voglio tenerle per me queste cose quindi scusatemi arriviamo a una conclusione a una conclusione che mi ha assicurato appunto che molto probabilmente non risuccederà questa cosa al gatto il veterinario e mi ha detto che così faccia a faccia guarda molto probabilmente è successo questa roba qua che io appunto per favore scusatemi ma non voglio non voglio dire in un video se effettivamente è stata questa cosa a farla stare male cosa molto probabile ma non sicura io non so come faccia a essere qui in questo momento questo gatto teoricamente doveva mettersi a dormire sulla sua cuccia come aveva sempre fatto e semplicemente non si doveva essere più svegliata doveva solo rimanere lì e basta e il veterinario mi fa guarda non so come sia possibile che lei sia qui perché è successo veramente una roba molto pesante per un gatto soprattutto per un gatto così piccolo e niente siamo tornati a casa dopo questa roba e è detto a punto di aspettare 48 ore solo che quando succedono queste cose qua io non ce la faccio io ve lo giuro ragazzi se fosse successo a me sarei stato molto meno in ansia sarei stato molto più tranquillo ma ve lo giuro quando succede qualcosa a lei io ho un boh non lo so sarà il fatto che ci passo tantissimo tempo insieme ripeto ormai ci vivo probabilmente in simbiosi e quando succede qualcosa a lei veramente io sto malissimo cosa è successo? per esempio torniamo torniamo a casa io comincio a pensare quando succede una roba del genere io penso veramente di tutto pensare a solo quello che è successo a Sabri a Crimi cioè vuol dire che comunque le cose brutte succedono succedono a tutti potrebbe anche toccare a te quindi veramente io ero veramente scosso tornato dal veterinario un po' meno ma comunque inutile dire che non ho chiuso occhio semplicemente sono rimasto con lei tutta notte l'ho tenuta con me e ho tornito penso un paio d'ore neanche fino a ieri mattina ieri mattina già stava meglio quindi tranquillamente si mangiava andava in giro barcollando ma molto meno e il giorno è stato tutto un migliorare un migliorare nel senso ho cominciato prima a fare i primi salti ho cominciato poi ad andare in giro senza barcollare ad atterrare senza magari cadere solo barcollando un pochino poi a fare atterraggi giusti quindi sotto tutto un migliorare fino a che stamattina appunto direi che è lei al 95% abbiamo ancora fino a stasera teoricamente stasera dovrebbe mettersi totalmente a posto e non lo so non non ho detto quasi nessuno queste due cose che mi hanno sconvolto il primo punto è stato quello del medico che mi ha detto mi ha guardato tranquillamente guarda non so come faccio ad essere a vivo il tuo gatto per quello che ha avuto non doveva essere qua tra di noi non è proprio facile da incassare come colvo cioè per lui sono molto molto legato al mio gatto ma tanto 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 non avrei mai pensato di legarmici così tanto e quindi non è stato per niente facile in più ve lo giuro ragazzi la scena che hanno la gabbietta nel trasportino che mi guarda mi agola e allunga la zampetta in cerca di aiuto la ricorderò per sempre per fortuna per fortuna io non so come la cosa è andata a buon fine ripeto era una roba veramente grave e questo video l'ho fatto ripeto più per forse me che per effettivamente voi perché magari cose così delicate onestamente avrei preferito non non caricarle sul canale perché comunque sono cose molto molto delicate però comunque era una cosa di cui ho bisogno di parlare perché ripeto ho detto semplicemente a tutti quanti che no si sta bene è andata tutto bene si è ripresa non è stato così facile cioè nel senso io mi sono spaventato veramente tanto ma tanto ma veramente tanto ma hai spaventato così tanto in tutta la mia vita io volevo raccontarvi questo piccolo aneduto ora forse è di là in camera addirittura quindi si è ripresa completamente perché l'ho ragione ragazzi non era non era lei cioè è una gatta che rompe le palle per giocare salta a destra e a sinistra fate conto che se lancio la pallina lungo il divano a rato terra lei fa salta sul divano per andarci sopra per prendere dall'altra parte cioè fa tipo delle acrobazie quasi pur di scatenarsi un po' più di pur di correre un po' e vedere lei da così quindi bella vivace che correrà per tutto fate conto che io ho comunicante praticamente da quella parte detto oltre il corridoio ho il bagno il bagno grande la chiamiamo noi che è lungo e ha un tappeto per terra e per giocare cosa faccio dire lancio da qua la pallina fino in bagno fino in fondo in bagno lei prende la pallina e scivola sul tappeto e rimane lì a giocare poi quindi è una gatta molto 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 attiva sarà perché cuccia anche di carattere è molto è iperattiva praticamente e vederla passare da essere appunto iperattiva al dormire sempre perché ha fatto un giorno e mezzo a dormire ragazzi letteralmente un giorno e mezzo a dormire e non era per niente bello non era bello perché in quel momento non era lei è stata veramente una cosa molto 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 brutta che non auguro a nessuno ovviamente però ripeto ora sono al settimo cielo veramente tantissimo perché la cosa è finita è finita qui e basta teoricamente non dovrebbe più succedere nulla perché veramente ragazzi è stata una cosa bruttissima che non avrò ripeto a nessuno ovvio poteva finire mille volte peggio poteva finire in centomila modi diversi peggiori credo che non lo so non lo so è andata bene è andata veramente bene una mia amica per esempio a questo punto direbbe che è destino è destino che non morisse psicologicamente questa roba mi ha fatto stare male sembra stupido ma ho un forte ricame con lei in questo momento ripeto io vivo quasi praticamente quasi sempre in casa esco un'ora al giorno massimo un'ora al giorno quando esco quindi vivo praticamente sempre a stretto contatto con lei e questo ha piaciuto parecchio quindi io spero che questo vlog vi sia piaciuto e niente noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao